Andrea ben ritrovato, ti ritroviamo subito con una tripletta se non abbiamo contato male, oggi sei soddisfatto della tua prova e in generale della prestazione della squadra in questo prima amichevole? Sì sì, sono molto soddisfatto della mia prova e anche quella della squadra, era importante far bene, mettermi nuti nelle gambe in ottica del campionato essendo la prima amichevole della stagione. Come state, come state provando qui a Cingolet? No, qui tutto bene, ci trattano molto bene, il campo è in ottima condizione, tutto bene. Dal punto di vista del mercato si è parlato spesso di te, qual è il tuo pensiero? Tu vorresti restare ad Ancona o vorresti trovare un'altra squadra magari dove avere più spazio per il prossimo campionato? Io mi metto a disposizione dell'Ancona, poi quello che succederà si vedrà, io do il 100% per l'Ancona e poi si vedrà. Andrea ha fatto un bel gol in Acropozia, il tuo terzo gol, come è venuto un bel gol? Grazie, è venuto, mi ha messo la palla a Simonetti se non erro, l'ho vista lì e ci ho provato ed è venuta. Grazie. A posto. Grazie.